... Scatta il fermo pesca, barche in porto. Da sabato e fino a 24 settembre il divieto nel tratto di mare da Termoli a San Benedetto del Tronto. La marineria protesta per le difficoltà del settore. Benzina non si ferma alla corsa dei prezzi. Secondo gli ultimi dati del Ministero, il Molise è tra le regioni con gli aumenti più evidenti. Non ha sortito effetti la norma sull'esposizione delle tariffe. Il migliaia per l'incendio del castello. Ancora una volta l'evento di Termoli ha conquistato tantissima gente in spiaggia. L'emozionante spettacolo pilotecnico durato oltre mezz'ora. Tony Adley, infortunato, salta il concerto. L'ex leader degli Spandau Ballet si è fratturato una gamba ieri sera prima di uno show in Calabria. Annullata l'attesa esibizione di stasera a Campitello Matese. Trattativa in bilico con Urbinati al Campobasso. Potrebbe saltare d'accordo con il calciatore del Fano. La società marchigiana pare abbia rilanciato per trattenere il giocatore in amaranto. Decisive le prossime ore. Buon poveriggio dalla redazione di Telemolisi. Dunque sabato prossimo scatta il fermo biologico tra Termoli e San Benedetto del Tronto. Le barche resteranno ferme in porto per oltre un mese fino al 24 settembre. Intanto torna prepotente il caro gasolio che sta creando seri problemi alla marineria. In apertura sentiamo Andrea Nasillo. Dal 19 agosto fino al 24 settembre lungo l'Adriatico nel tratto centrale da San Benedetto a Termoli le barche resteranno in porto. Scatta il fermo biologico. In un momento sicuramente non facile per la marineria italiana. Le criticità sono sempre più evidenti. Torna prepotente un problema che rischia di far sprofondare il settore. Il caro gasolio. Il prezzo di nuovo alle stelle anche a Termoli, ma al contento generale. Parte fermo, ormai sono due anni che parte un po' più in ritardo rispetto agli altri compartimenti e per la prima volta forse dico per fortuna che è arrivato il fermo perché il gasolio è arrivato alle stelle e con questi prezzi non si può certo, non si fa reddito. Un po' si è rabbassato il prezzo della nafta, poi di colpo questo aumento più del 30% del gasolio. Noi come associazione di categoria abbiamo fatto pure una denuncia al Ministero perché è spropositato questo aumento, ma d'altronde qualcuno dice che anche alla pompa, anche nei distributori sta succedendo la stessa cosa. Quindi andremo a fare il fermo biologico fino al 24 e la speranza è che quando rientriamo in mare questo prezzo del gasolio si abbassa. C'è di più, le norme comunitarie sono sempre più restrittive, il weekend non si può pescare, però da Termoli reclamano giustizia. Domenica scorsa c'è chi in Croazia pescava. Io ho mandato un tracciato, tutte le barche croate stavano in mare, quindi perché noi dobbiamo difendere il mare Adriatico, mentre dall'altra parte un paese che già sta nella comunità economica europea può fare quello che gli pare. Noi avevamo chiesto una deroga per il 15, quindi cercare poi di recuperare, il Ministero non ce l'ha data perché la comunità economica europea ci stoppa. E la Croazia, mi chiedo? E dunque la corsa al rincaro dei prezzi sui carburanti non si ferma. Secondo i tanti del Ministero delle Imprese, il Molise è tra le regioni dove gli aumenti sono più marcati. L'Associazione dei Consumatori lancia l'allarme e ci aspetta un autunno difficile. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il caro carburanti sta condizionando e non poco le vacanze degli italiani. La corsa ai rincari sembra essere inarrestabile raggiungendo livelli record. Un nuovo salasso dunque in pieno ferragosto con aumenti consistenti anche se differenti da regione a regione. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy diffusi proprio alla vigilia del 15 agosto, il Molise è tra le regioni in cui i rincari sono stati più marcati con la benzina verde al self che si è attestata ad 1,95 euro, piazzandosi dunque tra i primi posti. La maglia nera alla Puglia con 1,97 euro, seguita dalla provincia di Bolzano, Calabria, Liguria, Basilicata, Sardegna, Valle d'Aosta e appunto il Molise. La benzina meno cara è in Veneto con 1,92 euro. I prezzi continuano dunque a salire, un rialzo che dura ininterrottamente dal 1 agosto, giorno peraltro in cui è entrato in vigore l'obbligo per i distributori di carburante di esporre il prezzo medio regionale, una iniziativa che secondo l'Associazione dei Consumatori si è rivelata un vero e proprio fallimento. Speravamo che passato il weekend i prezzi si congelassero, invece proseguono la loro corsa non solo in autostrada ma anche nella gran parte delle regioni e l'allarme è lanciato da Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Se l'esposizione dei cartelli doveva servire dunque a ridurre i prezzi o quantomeno mitigarne l'aumento, allora è stato un flop visto che in alcune regioni, come il Molise, per il gasolio registra dati peggiori con un salto in appena 4 giorni di 4,5 centesimi al litro e 2,25 euro per un rifornimento, ha concluso Dona. Vacanze dunque contraddistinte dai rincari che hanno interessato non solo i carburanti ma anche il carrello della spesa e le conseguenze, fanno notare gli esperti, si faranno sentire sui bilanci delle famiglie italiane, soprattutto nel prossimo autunno. Il mese di luglio quest'anno è stato il mese più rovente di sempre con ondate di calore intense e prolungate. Durante il mese scorso si è registrato un eccesso di mortalità nelle città del centro-sud di oltre 500 decessi negli anziani, pari a più 9% rispetto all'anno precedente. E quanto emerge dai risultati dei sistemi di allarmi e della sorveglianza sulla mortalità giornaliera e sugli accessi al pronto soccorso curato dal Ministero della Salute? Il rapporto pubblicato sul sito del Ministero rivela che è Campobasso la città con l'incremento statisticamente più rilevante, più 53% di decessi rispetto allo scorso anno. E' adesso l'allarme furti che si intensifica come sempre durante i mesi estivi. A Isernia il Comitato del Centro Storico lancia un'allarme all'amministrazione chiedendo di intensificare i controlli. Sentiamo Enrico De Simone. Ancora furti a Isernia a segnalare l'ultimo episodio è stato il Comitato Centro Storico tramite una nota sui social, il finestrino di un'auto rotto dai malviventi per prendere e portare via tutto quello che c'era dentro. Non stiamo parlando di una zona isolata della città, scrivono su Facebook dal Comitato, ma di una macchina parcheggiata nel Centro Storico in via occidentale. Crediamo, continuano, che il tasso di criminalità abbia raggiunto un livello tale da rendere necessari maggiori interventi. Chiediamo, hanno concluso, che i controlli vengano intensificati soprattutto nelle ore notturne e che torni in attività il servizio di vigilanza, richieste accolte dall'assessore con delega alla sicurezza cittadina Domenico Di Baggio, che ha chiarito che presto i vigilantes torneranno nel Centro Storico subito dopo la conclusione dell'iter burocratico di manifestazione di interesse per gli operatori specializzati nel settore sorveglianza, in attesa che la Polizia Municipale venga armata e che possa quindi procedere autonomamente con controlli notturni. E' sempre in tema di furti, ce n'è stato uno proprio ieri sera in una casa di Venafro, i malviventi si sono intrufolati nell'abitazione entrando dal balcone al primo piano lasciato aperto, sono riusciti a portare via soldi incontanti, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Alcuni cittadini inoltre hanno segnalato alcuni furti in casa a Monteroduni, in una abitazione i malviventi avrebbero rubato anche alcuni contenitori di olio. A Campobasso adesso dove torna ad attualità il tema delle scuole sicure, con particolare riferimento ai lavori per la realizzazione della scuola di Contrada a Mascione, lavori fermi da tempo. Interviene il consigliere dei Popolari per l'Italia Salvatore Colla Giovanni che annuncia battaglia in Consiglio Comunale perché l'amministrazione comunale indichi le ragioni per le quali i lavori non vanno avanti. Il servizio. Il tema dell'edilizia scolastica tiene banco a Campobasso anche in piena estate, in particolare si torna a parlare dei lavori per la realizzazione della nuova scuola di Mascione che nonostante gli annunci e le promesse restano ancora al palo. Tra le critiche del consigliere comunale dei Popolari per l'Italia Salvatore Colla Giovanni. L'amministrazione casca ogni volta che dà una data è la scuola a Mascione dove in quattro anni abbiamo avuto più date di inizio lavoro che non sono mai iniziati e quindi il gruppo dei Popolari chiederà nel prossimo consiglio utile le dimissioni dell'assessore che riteniamo opportuno che bisogna fare chiarezza visto che il Movimento 5 Stelle negli anni passati sulle scuole ha fatto un cavallo di battaglia e oggi se una scuola a Mascione non riesce a uscirne fuori nonostante quella scuola ha un comitato, ha un gruppo di genitori, fa parte di una comunità perciò la Giunta Battista vuole portare avanti quel progetto. Oggi non si capisce perché si sono bloccati, vengono date nelle commissioni date discordanti, sono rimasti a marzo di due anni fa, oggi invece è sempre tutto arrenato, non vorrei che anche l'assessore sia arrenato nel 15 agosto e voglio ricordare a chi ci ascolta che a breve saranno le elezioni comunali e non vorrei che è colpa dell'opposizione che non si è fatta a scuola a Mascione. Su questo tema azzeremo un faro bello ampio per capire per quale motivo non si vuole continuare su un plesso che sta a cuore. Abbiamo ascoltato i comitati diverse volte ma non si vede la via della soluzione. Ancora un suicidio a Isernia, un uomo di 52 anni di nazionalità albanese si è tolto la vita nel bosco di Contrada a Colle Cioffi, il corpo è stato trovato stamattina dai carabinieri che già da ieri sera avevano avviato le ricerche dell'uomo. Rezziamo a Isernia perché fa discutere il caso della pavimentazione scivolosa di via Lorusso, un caso che arriva anche in Consiglio Comunale perché la consigliera Elvira Barone chiede interventi dopo aver ricevuto segnalazioni di cadute dei cittadini. Il servizio. Via Lorusso a Isernia sotto i riflettori da tempo numerosi cittadini segnalano episodi di rovinose cadute lungo la strada ma il problema non riguarda solo le persone a passeggio, spesso a scivolare sono anche le auto. Il tratto in discesa diventa particolarmente pericoloso quando piove e in tanti chiedono interventi risolutivi. Il caso finito anche all'attenzione del Consiglio Comunale con un'interrogazione presentata dalla consigliera di maggioranza Elvira Barone. Sono due anni che parlo con il sindaco della questione, ha detto, sono arrivata al punto di dover presentare anche un'interrogazione. Voglio che si trovi una soluzione per il bene dei cittadini. La risposta del sindaco Piero Castrataro, usare un prodotto chimico su tutta la superficie per rendere la strada meno scivolosa, scartata l'ipotesi di intervenire con una bocciardatura, ovvero con una lavorazione in grado di rendere la pietra più ruvida, intervento con un costo troppo alto per le casse comunali di circa 32 mila euro. Le prime prove di utilizzo della soluzione chimica su parte di Vialorusso a inizio settembre, ma la consigliera Barone non è soddisfatta. Il prodotto, ha detto, potrebbe essere fonte di inquinamento. Sulla questione abbiamo ascoltato alcuni cittadini. Guarda, io penso che il problema sulla pavimentazione ci sia, perché specialmente quando fanno quelle due gocce d'acqua, non hanno avuto problemi soltanto le persone nello scivolare, ma stesso il traffico stradale, sulla salita alla macchina, problemi di grip. Noi siamo qua dal 2018 e si continua a scivolare, soprattutto dopo queste giornate così caldo, come comincia a piovere. Si scivola in mezzo alla strada, si scivola sui marciapiedi, le macchine tendono a sbandare e soprattutto quando comincia la salita slittano. È un problema. Per trovarci meglio ci troviamo peggio. Era meglio quando stavano i San Pietrini con queste pietre che hanno messo. Non si può camminare, sia con le macchine che a piedi. Da Iserni andiamo a Termoli per le spettacolari immagini del tradizionale incendio del castello nella notte di Ferragosto. Anche ieri sera sono arrivati migliaia per assistere. Vediamo. Un incanto ancora una volta. La luce riflessa sull'acqua una notte di colori e di emozioni, nonostante quest'anno l'assenza del sottofondo musicale. Nasi all'insù, incantati dallo spettacolo pirotecnico, dall'incendio artistico, delle mura antiche del castello Svevo di Termoli, turisti e residenti. Decine di migliaia di persone hanno invaso la spiaggia per ammirare gli incantevoli fuochi. C'è chi lo ha fatto direttamente con i piedi in acqua, chi addirittura dalle barche. Tante infatti hanno illuminato il mare. 34 minuti di show, anche con effetti speciali, dalla cascata di luci all'immagine del borgo tutto di rosso. Ancora una volta un evento che si conferma imperdibile, pure per chi viene da molto lontano. Una partecipazione di pubblico incalcolabile, la cornice di un incendio mozzafiato la via del FUD, il lungomare nord, che prima e dopo lo spettacolo è stato piacevolmente affollato di gente. Nella lunga notte di Ferragosto a Termoli non sono mancati gli interventi delle forze dell'ordine e degli operatori del 118. Almeno una quindicina di soccorsi a ragazzi protagonisti della Movida che avevano esagerato con l'alcol. Non è mancata inoltre qualche zuffa, risolta però in poco tempo e causata appunto dall'abuso di bevande alcoliche. Alessandria Maccerro al Volturno dove la Proploco ha riproposto per l'undicesima volta la sfilata della sposa Cerrese nel tempo. Per noi c'era Barbara Fino. Una sfilata sotto le stelle e serenata al chiar di luna. È la sposa Cerrese nel tempo nella sua location suggestiva a Rione Castello, a Cerro Volturno, ad aver catturato anche quest'anno la curiosità e l'apprezzamento del pubblico numeroso intervenuto. Una serata all'insegna della bellezza ma anche delle tradizioni popolari. Agli oltre 30 abiti da sposa provenienti da tutta la regione si sono alternate scenette simpatiche sui matrimoni di una volta, curate dal regista Mario Rossi. La sposa Cerrese nel tempo nasce nel 1991 ed oggi rappresenta uno degli appuntamenti imperdibili del calendario estivo della Proloco. Abbiamo lavorato duramente per quelle prove, abbiamo un regista che è molto molto esigente, la soddisfazione è quella di vedere tante gente e veramente la location è quello che è. Con la Proloco abbiamo voluto fortemente riproporre questa manifestazione. La devo un orgoglio per tutto il paese perché a questa manifestazione partecipa tutto il paese. La serata è stata arricchita dalle narrazioni di Ida Di Anni e presentata dal conduttore di Rai 1 Luca Di Nicola. Ho trovato gente incantevole, non è un modo di dire, non è neanche una frase fatta assolutamente per chi come me gira l'Italia per questo lavoro, trovare bella gente. Ma io del resto conoscevo molto bene il Molise, assolutamente bene. Poi siamo dei cugini, io sono originario abruzzese, quindi non è che vengo dalla luna, assolutamente. So bene dove mi trovo e ci sto benissimo. Non ci sarà l'atteso concerto di Tony Adley questa sera a Campitello Matese. L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa dopo che il cantante ieri sera si era infortunato poco prima di un concerto in Calabria. Stamattina è arrivato il verdetto dei Medici, si è fratturato una gamba. Il servizio. Era l'evento più atteso di tutto il Montagna Molise Festival, ma non si farà. È stato annullato il concerto di stasera con Tony Adley a Campitello Matese. Una decisione inevitabile dopo l'incidente capitato all'ex leader degli Spandau Ballet che ha riportato la frattura della rotola e la rottura di un legamento dopo che ieri sera, prima di esibirsi in piazza Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è stato vittima di una caduta in camerino. A formulare la diagnosi è stato il primario del reparto di ortopedia dell'ospedale di La Mezzia Terme dove il cantante britannico, che ha 63 anni, si è recato questa mattina e dove è stato sottoposto agli accertamenti previsti. Ieri sera Tony Adley, che dal 1989, dopo lo scioglimento della band inglese, si è dedicato alla carriera solista, comunque ha portato a termine, come vedete nelle immagini, il suo live esibendosi assieme ai componenti della sua band seduto su uno sgabbello e con la gamba affasciata davanti a 20.000 persone che hanno gremito piazza Primo Maggio a Palli. Stamattina poi il verdetto sulle sue condizioni di salute e la decisione di annullare lo show di Campitello. Il Montagna Molise Festival, proprio ieri sera a Campitello, sullo stesso palco che avrebbe dovuto ospitare l'esibizione di Alley, ha proposto il concerto di Morgan, con il cantante che è stato protagonista di un concerto con orchestra davanti ad una piazza gremita. Il programma prevede per domani un altro atteso concerto, quello dei Marlene Kunz. E tra due giorni, dopo una pausa di quattro anni, torneranno a riaccendersi le luci su frammenti d'antico, l'evento organizzato a Bagnoli del Trinio dalla Compagnia di Cultura Popolare La Perla del Molise. Il 18 agosto alle 18, il via alla sfilata con l'attore Maurizio Aiello nelle vesti del Duca. Poi la festa fino a notte con tante novità. Le anticipazioni con Giuseppe Carriera. Frammenti d'antico da 26 edizioni coinvolge abitanti e visitatori in un'atmosfera senza tempo, rileggendo pagine di storia, tradizioni e sentimenti della Bagnoli del Trinio di un'epoca che fu. Il programma dell'edizione 2023 si arricchisce di importanti novità, fra queste spettacolari evoluzioni di luce, con il laser show che accompagnerà il lungo incendio artistico del Castello San Felice, momento clue di grande fascino che chiude la manifestazione. Novità anche per l'apparizione della fata Trignina, che in tutto il suo splendore lascerà il suo messaggio di speranza e realizzerà, secondo leggenda, i desideri di quanti la ammireranno. Venerdì 18 agosto, a partire dalle 18.30, si accenderanno dunque i riflettori sull'evento con la sfilata del corteo storico lungo le strade del paese. Quest'edizione vede la straordinaria partecipazione di Maurizio Aiello, affermato attore di teatro e cinema, ma amato da grande pubblico televisivo per fiction di successo come Un posto al sole, Don Matteo, Il maresciallo Rocca e La piovra a sette. Il bellissimo della TV sarà impegnato nel ruolo del Duca e affiancato da Azzurra Gallinari, Miss Molise 2022, splendida portacolori della nostra regione nella fase nazionale del concorso Miss Italia. Consolidando un'antica tradizione di frammenti, il corteo sarà arricchito anche dalle Miss degli anni precedenti, in cui il Covid ha purtroppo affermato o ridotto diverse manifestazioni. Il Duca e le Duchesse, con tutta la corte, attraverseranno tutto il paese, indossando gli splendidi costumi ispirati all'epoca firmati da Paola Donofrio, stilista di fama internazionale di origini bagnolesi, che proprio per questa edizione ha preparato tanti nuovi abiti, preziosi ed originali. A seguire, la sosta del corteo nobiliare in piazza Umberto I, per la revocazione della elezio sindaci attraverso il sistema della fava e del fagiolo. Dal tramonto parte la festa nel borgo, la notte che porta alla ricorrenza di Santa Caterina, si anima in decine di luoghi, specialità tipiche bagnolesi, dallo scarcio allo scattone, dalle pappardelle al sugo di cingliare alla pesca al vino, fino ai riquori prodotti in loco, come il trignolino. E tantissimi momenti di spettacolo, gran parte dei quali affidati ad eccellenze artistiche molisane. Una serata tutta da vivere, tra storia e leggenda, suoni e colori, sapori e sorprese, fino al messaggio della fata trignina e all'incendio del castello, rievocato in maniera artistica e simbolica da spettacolari fuochi d'artificio e moderni laser show, per tornare a far immergere lo spettatore in un'atmosfera senza tempo. A Filignani invece prosegue la trentatresima edizione del Festival Omaggio a Mario Lanza, rassegna internazionale dedicata al famoso tenore di origini molisane. Stasera sul palco il mezzo soprano Venafrano Laura Verrecchia, insieme al baritono Engvank Lee e all'orchestra diretta dal maestro Leonardo Quadrini, l'appuntamento in piazza Municipio alle 21.30. A Ielsi i festeggiamenti in onore di Sant'Anna, un resoconto di quei giorni all'insegna della miettitura e della trebbiatura, l'importanza nel tramandare alle giovani generazioni usanze e tradizioni del passato. Ce ne parla Dalila Catenaro. I festeggiamenti in onore di Sant'Anna, momento clou con la sfilata delle traglie e dei carri. A Ielsi la tradizione è stata rievocata dapprima attraverso la mietitura e poi con la trebbiatura. Un momento che ha coinvolto anche tanti giovani che hanno ricordato l'importanza dei tempi passati, ma anche degli strumenti utilizzati per lavorare il grano. Per l'occasione è stata rimessa in funzione anche un'antica trebbiatrice che veniva utilizzata diversi decenni fa. Proprio un gruppo di ragazzi ha voluto fare una sorpresa al nuovo comitato, rispolverando questa antica trebbiatrice che veniva custodita all'interno di un capannone dalla famiglia Panzera. È stato un modo per assaporare quel gusto di un tempo lontano ed anche un'occasione per far comprendere ai giovanissimi il funzionamento di una macchina che ha rivoluzionato il mondo dell'agricoltura. C'è stato anche il ricordo di Zio Salvatore, che ha raccontato la sua esperienza e per l'occasione di Sant'Anna si è rimesso all'opera alla soglia dei cent'anni. La giornata si è svolta grazie all'ausilio di tanti altri trebbiatori, così che il grano donato potesse essere insaccato per la vendita e per il pagamento di parte dei festeggiamenti. La giornata si è conclusa con un prezzo comune, nell'augurio che l'anno prossimo, l'annata, possa essere migliore. Due giorni di festa invece al Santuario dell'Assunta di Duronia, incontrata a Santa Maria, domani la ventesima edizione della tradizionale Sagra dello Spezzato, il 18, l'esibizione di Gio Valeriani. Rimarrà invece aperta fino al 19 agosto la mostra permanente dell'artista Carlo Ricciardi nelle sale del Circolo Sannitico di Campobasso sono esposte miniature di chiese e fontane di vari paesi molisani realizzate in pietra leccese e pietra di apricena. Partendo da planimetrie e documentazione fotografica, l'artista si è dedicato alla ricostruzione in scala di chiese e monumenti di diversi comuni, tra cui Campo di Pietra, Monaciglioni, Pietracatella, Amatrice, Petrella, ma anche il Santuario della Madonna di Canneto, Convento di Ghezzi e la chiesa di San Giorgio a Campobasso. Prima di salutarci vorremmo porgere le nostre condoglianze a Donato Petrucci e i suoi familiari per la perdita del papà Felice scomparso all'età di 86 anni. Nonno e guida esemplare viene definito negli affettuosi post a lui dedicati dai congiunti e in particolar modo dai nipoti. Ha donato Petrucci alla moglie Simona, alle rispettive famiglie, e le condoglianze dell'editore, del direttore e dello staff di Telemolise. Bene, è tutto per il nostro telegiornale delle 14, vi lascio al meteo e poi alle notizie sportive. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.